Non possiamo dimenticare persone importanti alle quali non a caso viene dedicata questa elisuperficie. Mi riferisco ad Antonio De Marco e a Silvana De Vita. Un grande momento quello dell'inaugurazione dell'elisuperficie a Vallo della Lucania ieri, che però ha preso le mosse da una tragedia, quella avvenuta quasi 16 anni fa, quando quattro persone persero la vita per la caduta proprio di un'eliambulanza che trasportava un paziente da Polla a Vallo. Ieri il dolore e il ricordo straziante della vicenda si sono mescolati alla speranza per il futuro nuovo che questa elisuperficie potrà garantire. Ho pensato al momento in cui seppi della notizia della caduta dell'elicottero. Rimasi interdetto. Le speranze non ce n'erano. Perché se ci fossero state le speranze, in effetti l'avremmo avuto subito, nelle speranze della loro vita, però passando il tempo, più il tempo passava più la morte si avvicinava. Vite troncate improvvisamente da un destino ineluttabile. Scusate, ci ha lasciato tanti perché, però nello stesso tempo la vita continua. E ha lasciato, soprattutto Silvana, e penso anche gli altri, un ricordo indelebile di se stesso. E anche il principale fautore dell'elisuperficie, assieme a Comune e Ospedale Asl, l'infermiere Arcangelo Paolino, non ha potuto non ricordare quei drammatici momenti che hanno dato sostanza al progetto. Io a quell'epoca stavo a Roma, ho partecipato anche se indirettamente, stavamo dando un supporto tecnico, anche per l'illustrativo, con elicotteri da Roma. E niente, è stato inditolato a Roma, per esempio, un atto dovuto, un qualcosa di rispetto, perché hanno dato la vita per gli altri, soprattutto per questo sistema. Ora, l'elisuperficie avrà un duplice compito. Le categorie sono due, interventi primari e secondari. Primari si intende direttamente sul luogo dell'evento, sul target, mentre il secondario è da ospedale a ospedale, un qualcosa di programmato. Per cui, se avremo un caso nel nostro cilento, potrà essere portato direttamente qui a Vallo, anziché a Casalverino, dove i tempi diventavano maggiori. Noi ci auguriamo che questo sia il primo step e che in un futuro non lontano si possano vedere frutti diversi, cioè una elisuperficie in pianta stabile che entri in gioco non solo nelle problematiche dell'emergenza sanitaria, ma anche nella protezione civile, anche in funzioni che nulla hanno a che fare, ma che sono comunque elementi distintivi e che conferiscono pregio al nostro ambiente.